Ciao a tutti e benvenuti al mio canale di cartomodellismo dinamico, io sono Issam e questo è il Fimi X8 Mini ed è il drone Best Buy Mini che potresti acquistare da 245 grammi, quindi correggetemi se sbaglio, non ci vorrebbe il patentino. Se segui il canale avrai visto il video precedente e saprai che questa è la seconda versione, il V2. In tanti sotto nei commenti hanno chiesto qual è la differenza tra il V1 e il V2 e in questo video lo vediamo al volo insieme. Per quanto riguarda la telecamera gimbal le differenze sono il sensore, la differenza principale perché il V2 ha un sensore più grande, 1 su 2.5 pollici rispetto alla vecchia versione di 1 su 2.6, anche il FOV è cambiato di poco, infatti l'ampiezza dell'immagine della nuova versione è di 81,1 gradi rispetto agli 80 gradi della versione precedente. Certamente questo ha cambiato di tanto la qualità dell'immagine che come vedi qua in questa immagine è strepitosa nonostante il basso costo di questo drone. Questo ha permesso anche di aggiungere una funzione ovvero lo zoom senza perdita di risoluzione che si può zoomare fino a 6 volte, mentre lo zoom digitale della vecchia versione era fino a 3 volte, in realtà una volta utilizzato lo zoom crop si può zoomare addirittura fino a 12 volte, certamente avrai una qualità dell'immagine minore, ma la funzione crop zoom cambia di tanto la qualità dell'immagine quando zoomi solamente a 6x. Un'altra cosa molto importante che è cambiata nella versione 2 ovvero il sistema di trasmissione che TDMA di terza generazione rispetto alla seconda generazione del V1, sto parlando della trasmissione dell'immagine, e la conseguenza è il miglioramento dell'immagine, non per quanto riguarda la latenza minima che è rimasta a 200 millisecondi, ma la latenza massima è migliorata, ovvero man mano che ti allontani di più l'immagine sarà migliore, avrà meno latenza rispetto alla versione V1, non solo abbiamo anche un chilometro in più di range, che non è poco su 8 chilometri della versione 1 rispetto ai 9 chilometri della versione 2. La versione 2 come avrai visto nel video precedente arriva in due possibilità, ovvero la batteria che pesa di meno e dura 31 minuti, quindi il peso del drone totale non supera i 245 grammi, mentre se vuoi addirittura 37 minuti potresti prendere la versione plus della batteria che dura 37 minuti e il peso sale a 266 grammi. E per ultimo, ma non meno importante, il modulo GPS è cambiato nella versione 2, il risultato si è visto come stabilità, infatti prende più satelliti, ma non solo il modulo GPS della versione 2, include anche la costellazione Galileo oltre al GPS GLONASS e Beidou, cosa che non avevamo nella versione 1, che è importante specialmente qui in Europa, essendo la costellazione Galileo e dell'Unione Europea. Se hai altre domande o dubbi, lasciale giù nello spazio commenti, ti rispondo appena possibile. Come al solito ti lascio il link e coupon sconto a questa meraviglia nella descrizione del video, molto consigliato, se vuoi un drone piccolo a basso costo con qualità dell'immagine superba. Adesso vado a farmi l'ultimo voletto che la batteria è ancora carica e c'è un po' di sole. Ciao, alla prossima!